eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale allora avevo scritto sulla pagina facebook che facevamo Prototype 2 invece no facciamo qualcosa di diverso oggi vi porto Dishonored allora modalità sì normale luminosità va bene creando una nuova partita precedente va bene perfetto andiamo Corvo se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi ti avrei tenuto vicino a me ma purtroppo non c'era alternativa e il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te la peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura quando tu segui mi sento in pace Emily e Dio conteremo i giorni fino al tuo ritorno fai in fretta e torna con buone notizie ma non ferma ci siamo occhio molla gli ormeggi mollati ci muoviamo perfetto ragazzi usa il rush per guardarti intorno l'orto deve riferire delle novità all'imperatrice tanta strada per portare cattive notizie secondo i marinai siamo maledetti magia nera magia nera per quanto ne sappiamo c'è già la cura per la peste intanto qua vediamo il palazzo sulla destra dove si siamo diretti qua sulla destra appazientate ancora ragazzi un paio di settimane poi registreremo Battlefield 4 e Dead Rising appena arriva l'HDP VR Rocket ok intanto andiamo avanti col gioco intanto entra l'acqua per far salire sulla nave ok ok prendi ls per spostare mi vanno a come veloce è stato bello a viaggiare con le sai cosa fare sì sì la pressione era bassa intanto così salta signore andiamo avanti e tu chi sei? dimmi del tuo viaggio ti prego c'erano le balene aspetta giochiamo a nascondino ora io conto e tu ti nascondi ah c'è tempo mamma sta parlando con quel vecchio e cattivo capo spia e va bene o facciamo scusa Emily ma devo andare alla tua madre dai accontentiamo bene andiamo è vero? è vero? andiamo corri vediamo se sei ancora bravo io mi copro gli occhi e conto quando ho finito ti vengo a cercare bene conterò fino a 10 grande scivolata sto arrivando oddio dove è andata? dove sei? oh è lì eccola non lo vedevo più caduto è sparita hai vinto va bene ora andiamo così anche mamma potrà vederti andiamo andiamo a bestia vai attenzione supera l'esterno dopo mi spiegherai come arrampicarmi un giorno voglio arrivare fino al tetto si si bentornato lord protettore non ho tempo scusa andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua eccoli di qua sono persone malate non dei criminali vostra maestà ne abbiamo già parlato sono sono miei sudditi se sarà possibile li salveremo dalla peste tutti quanti molto bene non intendo discuterne più mamma corvo è tornato grazie cara lasciateci sole come volete vostra maestà dai sparisci su alza i tacchi bello corvo due giorni d'anticipo continui a sorprenderci come sempre vai tranquillo oddio benedetto il vento che ti ha riportato qui che notizie mi porti tieni obiettivo raggiunto fa il rapporto l'imparatrice incontro l'imparatrice speravo che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura è una notizia pessima non possiamo fare nulla vegliacchi hanno intenzione di isolarci aspetteranno che la peste trasformi la città in un cimitero tutto bene mamma sembri triste sì non preoccuparti tesoro la mamma sta bene ma dove sono le guardie chi le ha allontanate mamma guarda che stanno facendo sul tetto oddio guardate di là Emily vieni qui allora premi RT per attaccare con la mano destra oppure LT per attaccare con la sinistra se ha un'arma o un potere più pagliato di chi tieni premuto RB ok per bloccare gli attacchi con la spada se effettuata con tempismo questa mossa sbilancerà i nemici ed esporrà un contrattacco letto dentro di me ecco lì ecco lì oddio che succede corvo grazie se tu non fossi stato qui non ancora basta oddio no lasciatela corvo asciacinetolare incolibra abrice corvo tutto va in pezzi trova trova Emily proteggila tu puoi farlo sai cosa fare promettilo corvo santo cielo guardate cosa ha fatto sì ha ucciso l'imperatrice che cosa hai fatto a Lady Emily traditore la sua guardia del corvo ma io non l'ho ammazzata io va sarai giustiziato per questo corvo prendetelo perfetto ragazzi da qua mi sa che iniziamo veramente il gioco è la tua ultima possibilità firma la confessione ti darò l'estrema unzione per salvarti l'anima per il momento basta fuori diamogli un po' di tempo per pensarci corvo l'imperatrice è morta sua figlia Emily è tenuta nascosta e nessuno saprà mai la verità sei stato sfortunato domani ti giustizieremo ma per una buona causa a questa nazione serve a un'autorità forte che guidi i deboli e qui entriamo in gioco bastardi credimi non c'è niente di personale anche se hai quasi mandato a monte tutto invece ha funzionato eri nel posto sbagliato al momento giusto e qualcuno doveva prendersi la colpa ah quindi le sai che non sono stato io stronzo guardie riportatelo in cella prima o poi ti prendo mancia corvo questo te lo manda un amico ok allora intanto a sinistra barra della salute sicuramente andiamo avanti mangia messaggio anonimo corvo in questo momento la nostra identità è irrilevante sapi solo che confidiamo in te questa è la chiave della tua cella quando sarai uscito dirigiti alla sala degli interrogatori della prigione una volta lì prendi la bomba a piazza ok perfetto abbiamo preso una spada delle monete ok no non laggare così come mai l'esecuzione di domani ha richiamato tanto pubblico si tratta di corvo quello che ha ucciso l'imperatrice e rapito sua piga aspettiamo un attimo prima di agire vediamo se uno di questi almeno si gira quando impugni una spada e uccidi un nemico ignaro premendo il rettivo avvicinati da dietro tenendo premuto il re B per ricevere un'invenzione non letale vedere il nobile lord protettore decapitato non sono meglio di noi che scommettiamo sui cani ok dai attenzione l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scordate da un ufficiale della milizia l'attraversamento deve essere concordato con una settimana di antigenza perfetto ok 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 Ok, dobbiamo andare di qua. Una pistola. Ok. No, questo è qua. Ok. Perfetto. Allora, qua cosa c'è? Ok, ancora delle altre pistole. Delle monete, l'Elisir, niente, le spade siamo a posto. Mangia. Ancora delle monete, mangia. Mangia. Unete. Che non fanno mai male. Un'interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scontate da un ufficiale della milizia. L'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo. Unito. Eccolo qua. Unito due per il che migliale di Forza proessere tutte le balleg le bottine in Perfetto, ma ci vede un cavolo. Ancora delle monete. Dov'è, dov'è, dov'è? La decisione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati. Ok, obiettivo aggiornato, trova l'esplosivo, perfetto. Allora, qua niente, qua niente, ne ho un'idea. Alzo un attimo un po' più la luminosità solo in questo momento. Allora... Perfetto, qua non c'è nient'altro. No, ok. Perfetto. Ok, Corvo Atanax, prototero reale, è stato condotto all'interrogatorio. Si tratta di una faccenda della missione della massima importanza. Il Lorde Regente e l'Alto Sacerdote cambiano con urano personalmente l'interrogatorio. Va bene. Qua c'è qualcos'altro che ci serve? No. Ok, abbiamo perso la bomba qui. Estratto da un libro di protege della bazzia. No, non ho voglia di leggere, perdonami. Ok, qua. Monete. Niente di che. Via. Via, via, via. Via. Tieni premuto Y esposto all'area alla sinistra per spogli e ti danniamo. Ciao. Tieni premuto Y esposto all'area alla sinistra per spogli e ti danniamo. Non vedo l'ora che gli taglierò la testa. Non tutti amavano l'imperatrice, ma io sì. Eccolo mio. Allora. Non ho proiettile, quindi l'unico modo è andare e ammazzare la gente. Via, via. Perfetto. Era l'unico modo, ragazzi. Ok. Attenzione. L'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione. Che non siano scortate da un ufficiale della militia. Mangiamo così, portiamo sulla vita. Perfetto. Apriamo la porta. Ok. Perfetto. Perfetto. Questo? Niente. Qua sopra c'è qualcosa altro. Scatoletta di carne. Elisir. Proiettili. Mangia, mangia. Ok. Sono tutti dei mangia, mangia. Perfetto. Un'altra. 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 sulla destra, via via, via via, via via, vai, via via, obiettivo aggiornato, vai alle fogne, via, 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 via Finiamo qua il video, se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento, ci vediamo nel prossimo video, ciao!